sono arrivato adesso benvenuti a tutti sono andato oggi parliamo di una cosa che sta facendo molto scalpore in ultimi tempi ossia youtube music o meglio come lo chiamo o meglio come lo chiamo io spotify web no anzi in particolare parliamo di youtube music e youtube premium si anche di youtube premium è vero parla 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 allora youtube music è un'applicazione che è uscita ora che in poche parole tu poi pagando un abbonamento mensile no ma sono fake ok grazie wifi di mettersi sempre in mezzo poi attivate wifi per sbaglio ok pagando un tot al mese avete un abbonamento avrete la possibilità di scaricarvi canzoni che volete da youtube appunto e che è praticamente la stessa cosa di spotify solo che spotify ti dava dei mesi cioè del potete usarlo anche gratis su youtube no offline cioè online gratis invece youtube music da pagare sono i primi 3 mesi con youtube premium i primi 3 mesi gratis poi paghi esatto copriano una cosa che vuoi fare gratis su youtube tutto infatti però è senza annunci eh ci stai zitto un attimo e questa cosa qua è una una cavolata una stavo per dire un'altra cosa una cavolata per me perchè prima di beh primo copia spotify secondo togli google play che invece google play music google play music che invece è gratis e terzo eh devi pagare per forza quindi vuoi dire qualcosa mmm parliamo anche di youtube premium youtube premium anche quella è anche volata hai 3 mesi gratis però di scrivere tipo anche dove dove abiti quante volte vai al cesso al giorno e in poche parole è un cioè in realtà è un bel servizio perchè puoi vedere i video in background puoi sentire i video mentre la zappa in background puoi fare cose belle non capisco perchè dovresti sentire un video quando hai chiuso l'app eh la musica magari vabbè quindi un po' una cavolata anche anche perchè la posizione youtube premium è invadente ogni volta che appare un annuncio su youtube ogni volta che metti qualcosa ti appare questo annuncio qua davanti si ed è una cosa nuova poi vedi i video youtube red che è una cavolata secondo me fare i video su youtube red quali youtube red? sembra un sito porno ma in realtà no praticamente sono i video che alcuni youtuber fanno questi video su youtube red e per vedere di pagare tipo più di pi che ha fatto dei video su youtube red io ho finito su youtube che devi pagare dei film per vederli vabbè quelle che è chiaro cioè e poi cosa volevo dire? non lo so il video è tuo ah con youtube premium non avrai più annunci e avrai altre cosucce tipo potrei boh poi le tre mesi gratis poi youtube li paga cioè poche parole youtube diventa più schifoso ogni aggiornamento che fanno buona della favola prendetevi netflix 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 e quindi niente se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace ma non schifo questi biscotti mi piace con i due se non vi è piaciuto lasciate un non mi piace scrivendo nei commenti non stare ammazzarmi col gomito scrivendo nei commenti che avete lasciato un mi piace aia iscrivetevi se non vi è piaciuto iscrivetevi al suo canale che non lascio in descrizione grazie ci vediamo al prossimo video aloha 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 sul